Restano gravi, ma stabili, le condizioni dell'Andriese di 24 anni, rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto lunedì notte sulla ex strada provinciale 231 nel territorio di Andria. Il giovane si trova attualmente ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Bonomo per i diversi traumi riportati nello schianto della sua Mercedes SLK, finita fuoristrada, lungo una curva, all'altezza di una nota a sale ricevimenti della zona. Vanno avanti le indagini della polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo della vettura che finita oltre il guardrail terminando la sua corsa su un terreno vicino. Morta sul colpo, nell'impatto, una giovane andriese di 24 anni, Elena Palumbo, che sedeva accanto al guidatore. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dal veicolo e dei sanitari del 118 arrivati sul posto con due ambulanze. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Da quando si è appresa la notizia della tragedia, in tanti hanno voluto lasciare sulla sua pagina Facebook messaggi di cordoglio. Amici e conoscenti la ricordano come una persona solare, spensierata. Un bellissimo angelo dagli occhi azzurri, sceso sulla terra, è tornato in cielo, sciaguratamente, troppo presto.